Per Alessandro Facchin, imprenditore vitivinicolo di Vaux, il 21 febbraio 2020 è diventato uno spartiacque. La vita lavorativa prima e dopo il coronavirus. Alessandro abita a Rovolona, a pochi chilometri dalla zona rossa di Vaux, dove però c'è la sede della sua azienda, Cade il Colle, che produce un ottimo vino dei Colli Eugani. Ebbene Alessandro il 18 febbraio aveva spedito ad un ristoratore di Parma una cassa di vino, cassa regolarmente arrivata il 24 febbraio. A quel punto però arriva una telefonata che mai vorresti ricevere. Il ristoratore avvisa Alessandro che non vuole più acquistare il suo vino, perché arriva da Vaux, focolaio di coronavirus in Veneto. Noi abbiamo provato a spiegare ai nostri clienti che il vino è sano, che è controllato, che non è contagiato, che il contagio non passa attraverso un cartone di vino, ma non c'è stato verso, la merce è stata respinta. Quello che noi adesso abbiamo timore e paura è che passi questo messaggio che il paese è infetto e quindi non ci siano più ordini o più spedizioni. Per Alessandro un pugno allo stomaco, la serietà della sua attività viene messa in dubbio da un'eccessiva psicosi. Le bottiglie sigillate all'interno dei cartoni vengono considerate veicolo di trasmissione del virus. Pregiudizi assurdi che per il giovane imprenditore hanno però un grosso peso economico. Da giorni inoltre Alessandro non può recarsi al lavoro, visto che l'azienda si trova all'interno dell'area rossa di Vaux. Noi ci impegniamo assolutamente tutti i giorni per far sì che questo non accada e quindi vi aspettiamo numerosi una volta che le barriere verranno dismesse e una volta che l'esercito se ne andrà vi aspettiamo numerosi a bere un calice di vino e a mangiare una fetta di salame. Il 3 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un decreto legge che prevede multe salate fino a 60.000 euro a chi chiede l'inutile bollino virus free. Finalmente un'iniziativa che tutela il lavoro delle nostre aziende e i nostri prodotti agroalimentari hanno fatto sapere dalla Call di Retti di Padova.